Ciao ragazzi, benvenuti a un altro dei miei video. Il nostro protagonista oggi è Matteo Grandi, portiere del Bassano. Andiamo subito a vedere quella che è stata la sua grandissima parata e poi dopo cerchiamo di capire quelli che sono stati i segreti per poterla rifare. La situazione in questione è il tiro dalla diagonale, dove Grandi, ecco qui, è proprio impegnato e se la cava benissimo deviando la palla che era diretta all'angolino basso della porta. Troppe volte il portiere prende gol dal tiro della diagonale e molte volte basterebbero pochi accorgimenti per poter evitare che questo succeda. Uno su tutti è la posizione che il portiere deve assumere, ovvero in diagonale rispetto a quello che è il tiro e poi riesce a caricare perfettamente in maniera tale da impattare la palla per poterla deviare il tanto che basta per mandarla fuori. È stata una grandissima parata e qua sotto ci sono i cinque passaggi fondamentali per poterla replicare e soprattutto insegnare. Ragazzi io vi aspetto al prossimo video, ciao!